ciao a tutti eccoci qua 4k e tech parliamo un attimino di questo diremmo ogni tanto arrivano delle mail sento nell'aria questa domanda spesso vale la pena passare dall s6 all s7 vale la pena fare questo cambiamento vale la pena questo s7 molto molto chiacchierato essere o non essere questo è il problema si diceva in una famosa una famosa frase poetica ma il discorso è molto semplice cercherò in due parole brevi di spiegare il mio modestissimo concetto per quanto riguarda il passaggio dall s6 all s7 se questo s7 vale la pena di essere di essere acquistato allora secondo me samsung ha raggiunto un standard molto alto molto alto un po come fa apple a migliorare sempre l'anno presente il modello oramai è arrivato al top secondo secondo ha detto di samsung ls6 in effetti con il materiale con tutto è arrivato veramente un livello qualitativo molto alto e finalmente può concentrarsi nel migliorare sempre l'anno dopo il modello successivo questo s7 è veramente bello è veramente fluido è veramente veloce veramente performante ha uno schermo secondo sicuramente lo schermo migliore attualmente sul mercato senza ombra di dubbio costa costa come la serie s6 qualcosa in più parliamo del legge la cosa che mi è piaciuta quello che mi è piaciuta meno la cosa che mi è piaciuta di più sicuramente l'impermeabilizzazione l'espandibilità il miglioramento del design lo schermo migliorato soprattutto il fatto di fare due schermi con due dimensioni diverse ls6 flat a 5.1 e ls6 edge a 5.5 perché così si accontentano due fasci di mercato 5 pollici e mezzo quindi schermo più ampio una visualizzazione diversa dei contenuti come piace a tanti utenti schermo da 5.1 che per tanti ha un formato molto importante ho sentito molti utenti dire per me il 5.1 è una religione il mio formato ideale quindi samson ha deciso di non penalizzare nessuno di due faccio uno schermo da 5.5 e faccio uno schermo da 5.1 poteva fare anche il 5.5 sia del flat e il 5.1 anche del legge però ha voluto fare due tagli due misure diverse per dare la possibilità ovviamente con 100 euro di differenza costa in più legge di avere i due tagli di schermo vale la pena al mio modo di vedere sì e vi spiego perché tutto quello che vi ho detto cioè l'impermeabilizzazione ovviamente c'è l'impermeabilità sicuramente messa nell's7 aggiunge qualcosa l'espandibilità fino a 128 giga aggiunge molto non poco il fatto del design un po rivisto e anche di non avere con legge un 5.5 non avere più per forza legge più a 6 pollici insomma secondo me il taglio giusto 5.5 o 6 sono comunque sempre le dimensioni ideali e far partire dal 5.5 legge secondo me è una cosa azzecata lo schermo migliorato ancora sicuramente l'ottimizzazione ancora di più che c'è stato nella touchwiz quindi sicuramente anche questo mi ha colpito nel complesso lo smartphone quasi perfetto legato quei difetti ce ne hanno tutti quindi sicuramente è veramente molto impressionante questo s7 a mio modo di vedere farò più successo dell's6 sicuramente e vale la pena questo passaggio chiaramente poi dipende dal vostro budget delle vostre intenzioni di spesa lo volete prendere un abbonamento lo volete prendere io ve lo sconsiglio se potete acquistate di sempre gli abbonamenti sono sempre delle mini trappole anche non voglio parlare male di nessuno vanno bene gli abbonamenti uno lo può pagare insieme alla tariffa telefonica illimitata però c'è sempre la penale ci sono un sacco di di vincoli poi magari non si trova un momento che non lo vuole più pagare per uscire deve spendere dei soldi in più lo paga di più il telefono due trecento euro in più io vi consiglio sempre se potete acquistare anche l'abbonamento comunque viva gli operatori che ci danno gli abbonamenti che ci danno le tariffe per carità voglio bene a tutti e non parlo mai male bene bene quando serve male quando serve bisogna essere obiettivi se qualcuno sbaglia si cerca di che se sbaglio io vengo criticato ovviamente e mi fa molto piacere l'umiltà alla base di tutto quindi che dire sicuramente questo s7 convince visto che oggi al giorno di uscita c'erano appunto gente ma il mate 8 ls7 allora il mate 8 per me è uno smartphone eccezionale starà con me finché non esce il mate 9 come è stato per il mate 7 è veramente insostituibile quindi per me il mate 8 sicuramente uno smartphone che non si può farne a meno dal punto di vista dal mio punto di vista veramente ben ottimizzato batteria con un'autonomia incredibile schermo full hd che sembra quasi un quad hd veramente non ha nulla da invidiare ho fatto una personalizzazione avete visto voi anche quella poi quella versione da 64 gb ancora ancora migliore quindi sicuramente un confronto tra i due si farà però è difficile dirlo così su di piaccaro ls7 qualità di materiali design forse anche superiore diciamo più qualità di materiale anche anche il mate ha dei materiali molto molto nobili più che altro diciamo lo schermo ecco lo schermo dells7 sicuramente il design particolare dell'edge sono superiori al mate 8 ma nel resto il mate 8 è un carro armato con qualità incredibile schermo bellissima qui lo chiamerei così mentre ls7 è una è un violino no un violino di armonia di design di schermo bellissimo di ottimizzazione di velocità quindi insomma averli entrambi sarebbe un po la cosa migliore però chiaramente costano quindi so che se dovete scegliere scegliete col vostro cuore con le vostre intenzioni difficile darvi darvi io dico tutte e due però se dovete passare alls7 sicuramente avete possibilità di farlo fatelo perché secondo me il passo in avanti è evidente avere legge a 5,5 pollici con questo schermo tutti e due gli schermi migliorati anche nel flat un'ottimizzazione del software migliore in permeabilità l'espandibilità insomma il lavoro c'è stato anche se non c'è di super innovazione però però super innovazione sa che io intendo tutte quelle chicche innovative che vengono messe poi no dentro gli smartphone tipo quelle di LG della dual camera è vero che c'è il dual pixel anche se nella fotocamera tra l'altro che fa delle foto veramente incredibili come fotocamera penso che s7 sia anche lì superiore agli altri anche con il discorso del dual pixel quindi vedete voi io direi che si può terminare tranquillamente qui questo video e darvi appunto il mio consiglio sì vale la pena passare alls7 sì ls7 è buono se potete fate fate sicuramente questo passaggio confrontato agli altri top di gamma iphone mate 8 lg5 è una scelta difficile sarebbe valore di tutte quattro e cinque sono un tecno fan li prenderei tutti sicuramente due di su tutti mate 8 e s7 assolutamente loro due secondo me sono il top 4k e tech per 4k e tech paolo uguale alle prossime ciao grazie come sempre vi aspetto sempre sul mio canale ciao ciao